Tradizioni pasquali in una cittadina ungherese, le cicogne, nunzie di primavera e simbolo di fecondità, fanno la loro apparizione e nidificano sui tetti delle caratteristiche fattorie dove le giovani, indossati i ricchi e pittoreschi costumi della festa, sono intente a preparare le tradizionali uova colorate e ad agghindarsi per la solenne processione. A presto! A presto!